Benvenuti in questo nuovo video, oggi ragazzi giochiamo a Bologo Stars Come ragazzi, seguitemi su Instagram che mi chiamo Stasi Martinelli Mettete un bel mi piace E attivate la campanella Ok, basiamo un po' di volume Ragazzi, come vedete, ho aggiunto la skin Decidete voi quale skin mettermi Non ci fate caso qui che mi scendo l'audio Aspettate che mi chioro, apposcio Ecco qua, ditemi in questi video quale skin mettermi Però ora uso questo Ditemi anche quale modalità fare, cioè queste Io ora vado a fare in duo In pratica ragazzi Se mi volete seguire su Fortnite ragazzi Io mi mandate la richiesta Che mi chiamo Mi chiamo Pilot Pilot Gazzelle29 Con la P grande Pilot Poi scrivete Ragazzi non mi da linea nemmeno Poi scrivete Gazzelle con la G grande Con due L 29 Dopo lo lascio Qui sotto E guardate quelli due Sono forti A me non mi da la linea Ecco ragazzi Che incominciamo Malissimo Attenzione Noi teniamo quattro gemme Ora ci serve un po' di linea Ragazzi mi dovete scusare E noi ci camperiamo Ce la camperiamo Perché Ecco il nostro amico ok In tre squadre Io contro Cioè noi contro quelli due Là che vedete Lì E E basta Ecco io sono morto E morto pure il mio amico Siamo arrivati terzi ragazzi E non fa niente Ci riproviamo Più quattro coppe Guardate quanti coppe tengo Aspettate che Nuo esce Tengo 265 coppe Più queste quattro 69 Poi vi ripeto Ditemi quale skin Mettermi Allora A Shelly A Nita A Colt A Bull A Bombardino O a Pocho Allora Questa è Shelly Tengo due livelli Questo E questo Tengo A Nita E questo Tengo a Colt E questo Tengo a Bull Che è questo Tengo a Aspettate Tengo a Bombardino Che è questo E tengo a Pocho Che è questo Niente ragazzi Andiamoci a fare Un'altra bella partita Facciamo questa bella partita Facciamo l'ultima partita di questo video E poi Lasciate tanti mi piace Iscrivetevi Premete la tappanellina E così Quando faccio qualche video Vi esce la notifica Anche se faccio qualche live Non lo so Dovete ancora scusare Perché non ho linea Ecco Abbiamo ucciso Già uno Ecco Attenzione Guardate a questo Quanta vita mi leva Ok Abbiamo ucciso Quell'altro pure E siamo già a 2 kill Portiamo kill 2 kill Guardate quello Che sta lì Facciamo subito Corriamo Boom Elimination Eliminato No ragazzi Questo fuoco mi fa danno Io non lo sapevo Questa linea brutta Però noi Spariamo a caso E eliminato Un altro Madonna Qualcuno mi sta guardando Ciao Ciao Chi mi sta guardando Ve lo ridico Seguitemi su Instagram Che mi fate un bel piacere Mi chiamo Sasi Martinelli E niente ragazzi Io Non Non vi faccio venire Mal di testa E E giochiamo Auguri Tanti auguri A voi E attenzione Non andare in questo fuoco Ecco qua Che la mia stessa skin Adesso muore Guardate Guardate che butta fine Fa Almeno spara più Eccola qua Eliminata Aiaia Da loro stanno Due maghi Ragazzi Noi stiamo vincendo Di 20 punti Anzi 19 punti Perché loro stanno a 10 E Noi siamo a 31 Che uccidiamo Un altro E ragazzi Stanno questi dietro E sono morti Ah no scusate ragazzi Non sono morto Questa linea brutta Ancora E così Sono morto Siamo a 33 Facciamo così Facciamo prima Ragazzi Scusatemi tanto Che lag Ecco Accediamo ancora Va bene ragazzi Per questo video Finiamo qui Ci vediamo A un prossimo video E Bella raga Ciaoabeanu Ciao 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 Ciao